Buon pomeriggio a tutti da Vinitaly ed in particolare dalla postazione di Radio Number One. Oggi pomeriggio sono in compagnia dello chef Gian Piero Vivalda dell'antica Corona Reale, pluristellato Michelin, con il suo direttore Davide. Benvenuti. Grazie mille. Grazie a voi. Raccontateci come, dalla vostra esperienza per il progetto in cui siete inseriti in Vinitaly, l'apporto della cucina stellata si inserisce nel panorama enogastronomico che così, con tanta passione, questa fiera sta cercando di promuovere. Sì, diciamo che è un'opportunità per la fiera sicuramente, ma soprattutto per le cucine, di rappresentare non solo un'Italia di tipo regionale, ma intesa per una nazione intera. Quindi poi naturalmente i piatti vengono cambiati, adeguati al menu del territorio in cui uno si trova. Noi oggi rappresentiamo il Piemonte, ma in realtà utilizziamo materie prime tutte italiane. Quindi cerchiamo di fare il miglior abbinamento possibile per i nostri ospiti, compatibilmente con i vini che la regione Piemonte ci ha offerto. Quindi abbiamo fatto anche con Davide un abbinamento enogastronomico ad hoc. Sì, assolutamente in appoggio con il consorzio, ovviamente la regione che ha fornito i vini. Abbiamo avuto la possibilità di poter abbinare a un menu veramente interessante tutto ciò che comprende la parte piemontese e italiana. Quindi grande valorizzazione del territorio, ma comunque in ottica internazionale. Leggevo Giampiero che anche la tua formazione è comunque internazionale, prima di lanciare comunque i concetti di fine dining. Allora avevi studiato presso i grandi maestri francesi. Sì, i primi maestri sono stati appunto quando ho cominciato a lavorare nel ristorante di famiglia, mio nonno e poi mio papà. E poi naturalmente uno cercando di migliorare le sue tecniche, i suoi rapporti con le materie prime, guardandosi intorno, la Francia in quel momento era quello che mi piaceva di più e allora ho cominciato un percorso nei grandi ristoranti stellati, Rélai Chateau e Grand Table du Monde, da Parigi a Lione, tutti i posti dove andavo a mangiare da piccolo e allora sono tornato. Quindi diciamo radici molto molto antiche, perché è la prima traccia della vostra attività comunque di ristorazione risale, se ben ricordo, ancora al 1800. Poi però di fatto recente, se vogliamo guardare la storia enogastronomica di altissima fascia italiana, è molto più recente rispetto ad altre esperienze stellate italiane. Sì, io credo che per guardare il futuro bisogna guardare anche un po' il passato, perché altrimenti si trascurano tante materie prime che non tutti hanno più la sensibilità di utilizzare. Ecco, quindi la storia non si inventa. E' proprio così, e solo così si acquisisce maggiore consapevolezza. Sì, io lo dico sempre ai miei ragazzi, sia in sala che in cucina, che le materie prime sono preziose, ma stanno diventando sempre di più preziosi, anche l'acqua per esempio. Hai citato un passaggio essenziale ai miei ragazzi, quindi vi occupate molto di formazione dello staff? Sì, ci occupiamo molto di formazione dello staff. Non è che prediligiamo il ragazzo giovane da quello un po' più, diciamo, maturo, ma abbiamo proprio la necessità di voler vedere i ragazzi crescere con noi. Questa è quasi una missione, in un momento in cui comunque il personale va accompagnato e stimolato, senza sempre la pretesa di dover per forza lavorare per qualche motivo, ma invece cercare proprio di fargli capire l'importanza della professione e la cura del cliente, che è la nostra base proprio del lavoro. Giusto, quindi valorizzando le loro normali e naturali attitudini, però inquadrandole comunque con un metodo, con tenacia e con costanza. Assolutamente sì. Progetti nel breve termine? Qualcosa che volete anticiparci? Progetti ce ne sono sempre tanti all'antica corona reale. Qualcuno c'è, alcuni ambiziosi, quindi potrei svelarli, ma poi vorrei anche portarli a termine. Abbiamo molta cura, la mia famiglia arriva anche da una generazione di agricoltori, quindi abbiamo dei terreni in cui ci stiamo investendo per avere i nostri ortaggi, dall'A alla Z, i fiori, le piante spontanee, le erbe, tutte queste cose per migliorare i piatti, quindi i gusti, i profumi, i colori, tutte cose che messe insieme sono convinto che cambino poi alla fine l'esperienza sensoriale per il cliente. Oltre che narrativa, perché così avete davvero una vostra storia da raccontare, già dalle materie prime. Ma infatti io ricordo da Giovincello che mio nonno mi portava a raccogliere i fagiolini, queste cose qua, dicevo no, ancora. Invece oggi questa esperienza serve, tutte le esperienze servono, quindi, è la verità. Grandiosa la vostra testimonianza e grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie a voi.